Il primo allarme da una nota congiunta di sindacati che parlano di poca chiarezza intorno alla LSS Consulting, la società costituita nel 2019 contestualmente all'acquisizione di tre quote dall'ex socio privato della saga, la Lucente, nel frattempo fallita. Costo poco superiore ai 150 euro per un valore nominale di 15,48 euro. Da una visura camerale la LSS Consulting, che risulta peraltro inattiva, fa capo al manager Romagnolo Andrea Del Vecchio. Alle sue spalle situazioni mai del tutto chiarite su un tentativo di scalata ai vertici dell'aeroporto Federico Fellini di Rimini, rappresentanza di una compagnia russa, la Novaport, e al modo con il quale da rappresentante di Novaport fino all'incarico di amministratore delegato di AER Dorica, è stato di fatto sfiduciato dall'allora presidente della regione Marche, Luca Ceriscioli, per gli scarsi risultati ottenuti nella gestione dell'aeroporto di Falconara, lasciando un disavanzo nel 2016 di grosse proporzioni. Del Vecchio, tuttavia, è stato ricevuto con tutti gli onori nei giorni scorsi dai vertici regionali, i quali gli hanno dedicato ben due riunioni, una politica a Palazzo del Consiglio regionale di Piazza Unione, una tecnica all'aeroporto, riunioni alle quali ha voluto partecipare in prima persona lo stesso presidente Marco Marsiglio. Abbiamo deciso di seguire da vicino la questione cercando di avere delucidazioni rispetto a legittime perplessità di diversi portatori di interesse dei sindacati ed esponenti del mondo economico a rappresentanti politici. Abbiamo intercettato Del Vecchio ed ecco quello che ci ha riferito. Vuol dire solo come il socio di mia ignoranza, come intende esercitare la sua questione sull'aeroporto? Non era questo il tema della riunione. Qual era il tema? Delle prospettive di sviluppo. Possiamo chiederle la sua versione dei fatti sulle vicende di Rimini e Ancona, se vuole, visto che ha la possibilità anche di dire... No, non è pertinente, direi che non è pertinente. Lei pensa che noi abbiamo lo 0,3 volte 0, ma niente, quindi non possiamo influenzare niente. Non sono stati tranquilli i lavoratori. Per carità di Dio, anzi, anzi, noi diamo solo un suggerimento per creare sviluppo, non sicuramente per... Cioè, assolutamente. Resta la curiosità nel capire ad esempio come mai i consiglieri regionali di maggioranza che hanno partecipato alla riunione matutina, dopo averci promesso di creazioni al termine dell'incontro, abbiano poi abilmente declinato l'invito, demandando al solo presidente la possibilità di fare un po' di chiarezza. Guardi, non mi interessa commentare né illazioni né ricostruzioni quando e dove ci sarà una manifestazione di interesse diciamo formalizzata, tutti potranno commentare anche la solidità di quale sia il gruppo industriale che viene coinvolto e che può entrare nella partnership con la regione Abruzzo dentro la saga. Intanto, sempre dalla regione, si chiarisce che la stessa non avrebbe potuto esercitare l'opzione per rilevare le quote lasciate dall'ex socio privato dopo essere diventata unico socio pubblico, nonché di maggioranza. Ma l'articolo dello statuto della saga dice ben altro. Attendiamo fiduciosi ulteriori sviluppi.